buongiorno a tutti oppure buonasera come sempre dipende come tutto nella vita un po dipende io sono antonio vi do il benvenuto a questo corso di lingua italiana livello intermedio avanzato un caloroso benvenuto a tutti i miei studenti da antonio benvenuti a questa lezione di italiano livello avanzato in questa lezione concludiamo l'unità 23 l'unità dedicata a questo racconto dello scrittore italiano stefano benny il racconto chiamato dottor new quindi abbiamo parlato di questo dottore fissatissimo con le nuove tecnologie che a un certo punto fa esplodere il mondo sebbene questo sia un personaggio di fantasia quindi immaginato dalla mente dell'autore possiamo affermare che in un certo senso siamo un po tutti dottor new perché questa è una storia nella quale un po tutti potevamo identificarci quindi l'autore ci apre gli occhi in un certo senso sui pericoli legati all'uso delle nuove tecnologie e alla dipendenza se vogliamo da queste ma va bene di tutto questo abbiamo già parlato nella scorsa lezione adesso ci muoviamo verso l'ultima pagina dell'unità 23 la pagina 130 quindi ci troviamo davanti a tre sezioni la sezione f la sezione g e la sezione a che in realtà la sezione h è molto molto limitata quindi possiamo farla alla fine ovviamente iniziamo dalla parte f ci dice parliamo e scriviamo quindi ci sarà da parlare e da scrivere ovviamente il primo esercizio ci chiede credete che la nostra società consumi troppo motivate le vostre risposte io vi do la mia risposta la mia risposta è sì credo che la società odierna consumi troppo come motivo questa risposta che giustificazione che spiegazione le do beh io direi che per prima cosa possiamo raccontare due storie la prima storia è un aneddoto che ho sentito in giro la seconda è una storia vera che è capitata a me dunque la storia che ho sentito in giro quindi questo aneddoto inizia così c'è questo bambino che vede il nonno che ha tipo 90 anni e chiede al nonno nonno tu sei stato sposato con la nonna per quasi 70 anni ma non avete mai litigato non sono mai successe cose brutte fra di voi che vi hanno spinto magari a separarvi qual è il segreto per vivere quasi 70 anni l'uno accanto all'altra e il nonno risponde così semplicemente in una frase semplice e bellissima nella sua semplicità dice io caro nipote provengo dall'epoca in cui le cose rotte si aggiustavano e non si buttavano via tu invece provieni dall'epoca in cui le cose rotte si prendono e si buttano via ecco il segreto per vivere assieme ad una persona ovviamente questa cosa qua cosa significa significa che ci sono state magari delle incomprensioni cioè figuratevi no in 70 anni a stare insieme a una persona o presto o tardi qualche incomprensione anche piccola può starci tutta il problema è riparare le cose quando si guastano e non cambiarle questo che relazione ha alla nostra unità e che relazione ha alla domanda che il libro ci ha fatto beh potete vederla da voi la relazione è vero in passato le cose che si guastavano venivano aggiustate adesso le cose che si guastano vengono sostituite e questo è prova del consumo eccessivo della nostra società e soprattutto è anche un indice preoccupante del modo eccessivamente frivolo e leggero in cui vengono trattate le persone perché a questo punto anche le persone da quello che dice il nonno vengono trattate adesso come oggetti cioè non sto bene più con una persona basta via vado via e se ci pensiamo un attimo è anche un comportamento abbastanza infantile mentre in passato si faceva così non sto bene con una persona è successo qualcosa abbiamo litigato va bene scopriamo perché e risolviamolo il problema che secondo me è un atteggiamento molto più maturo va bene questo per quanto riguarda la prima storia la seconda storia è una storia tratta diciamo da un episodio di vita vissuta c'è un qualcosa che ho vissuto in prima persona dunque ero bambino avevo si e no 10 11 anni e mio fratello riceve in regalo una spada giocattolo mio fratello ovviamente contentissimo avrà avuto 4 5 anni non mi ricordo vabbè riceve questa spada in regalo contentissimo inizia a giocare la mostra a tutti i suoi cugini finché un cugino particolarmente invidioso prende e la spacca potete ben immaginare i pianti di mio fratello quanta pianto quanto si è disperato la spada nuova si è rotta così con la così con la diciamo che un'altra famiglia e magari un'altra persona forse avrebbe ricomprato lo stesso modello però per mio fratello quella spada era qualcosa di unico al mondo e non sapeva più come fare quindi cosa ho fatto io ho preso e l'ho riattaccata col nastro adesivo e non potete immaginare la felicità di mio fratello questa storia che cosa ci ha detto questa storia ci ha detto che gli oggetti a parte il loro valore economico sviluppano nel tempo un valore affettivo anzi siamo noi che diamo loro un valore affettivo e questo valore affettivo non si può comprare quindi se mio fratello avesse ricevuto in regalo un'altra spada al posto di quella rotta non avrebbe avuto la stessa contentezza che ha sentito quando gli è stata restituita la spada riaggiustata nella società moderna invece adesso facciamo un salto nel futuro di una ventina d'anni più o meno quindi nella società odierna mi sembra che la gente sia sempre meno attaccata agli oggetti che sono stati regalati e quindi se qualcosa si rompe la si prende la si butta via e si compra il modello nuovo quindi noi siamo diventati una società di spendaccioni e di gente che consuma troppo io ovviamente vi ho fatto due esempi molto molto ridotti e di due azioni alla fine molto piccole che però ci spiegano come la nostra società sia cambiata e come adesso si consumi effettivamente troppo come magari adesso un bambino sarebbe molto più contento se dice vabbè mi si rompe la spada nessun problema ne compro una nuova il bambino è contento di nuovo invece no mio fratello aveva sviluppato un valore affettivo nei confronti di quella spada e va bene questo era uno dei classici momenti in cui l'insegnante deve chiudere il libro e aprire il suo cuore io spero di avervi comunicato qualcosa di importante di profondo con questa lezione con queste due storie adesso possiamo finalmente riaprire il libro e leggere l'esercizio 2 che ci chiede avete una carta di credito se sì in quali occasioni la usate generalmente tutte le vostre spese sono motivate e necessarie parlatene ok ne parlo io io ho una carta di credito no assolutamente no io al massimo ho una carta prepagata io ho avuto la mia prima carta prepagata in occasione della mia iscrizione all'università quindi avevo più o meno 19 anni prima dei 19 anni avevo soltanto con tanti e anche pochi a dire la verità perché non ero un gran risparmiatore né lo sono tuttora in realtà se ci pensiamo bene ma vabbè questa è un'altra storia comunque la prima carta prepagata l'ho avuta a 19 anni e da allora ho sempre usato soltanto carte prepagate che fossi in italia o in cina non mi sono mai fidato delle carte di credito anche perché non avendo avuto quasi mai uno stipendio fisso e stabile ogni mese mi era difficile calcolare in anticipo quanto avrei potuto spendere in quel mese e comunque penso che una carta prepagata sia molto più gestibile di una carta di credito cioè con la carta prepagata è pressoché impossibile secondo me andare in rosso cioè avere il conto in rosso che significa spendere più di quanto uno si possa permettere cosa che invece ha molte più probabilità di accadere quando si usa una carta di credito almeno da quello che ho visto e ho vissuto in prima persona ho capito che così in quali occasioni uso la carta prepagata e beh io la uso praticamente sempre ogni occasione nel senso che spostandomi fra italia e cina mi trovo spesso a pagare con una valuta che è diversa da quella ufficialmente accettata nello stato in cui mi trovo quindi per evitare di andare allo sportello del bancomat prelevare in quest'altra valuta e farmi anche detrarre i costi del prelievo nella valuta estera preferisco direttamente pagare con la carta perché insomma è più comodo ci vuole meno tempo e insomma io ci risparmio anche un bel po' quindi diciamo la uso spesso e poi voglio dire facendo acquisti direttamente con la carta invece che con i contanti è anche possibile tracciare i miei soldi online se per esempio non lo so compro qualcosa poi eseguo l'accesso sulla pagina ufficiale della mia banca e vedo un po' dove sono andati a finire i miei soldi e quanti soldi mi sono rimasti insomma è molto più gestibile molto più tracciabile secondo me poi ci chiede ancora generalmente tutte le vostre spese sono motivate e necessarie parlatene beh secondo me sì voglio dire io non mi considero per adesso essere uno spendaccione una persona che spende un sacco di soldi per cose che alla fine non mi servono o cose che sono fondamentalmente inutili io le spese che faccio ogni mese sono di solito relative all'affitto che devo pagare l'affitto di casa al mangiare e al bere e poi ai trasporti pubblici diciamo che generalmente le spese che devo affrontare ogni mese sono relative a queste tre cose poi ovviamente ci sono anche le spese secondarie per esempio l'acquisto di qualche libro ecco io uso spesso amazon per comprare libri e insomma non mi sembra neanche di spendere chissà quanto ogni mese per comprare dei libri quindi per adesso mi considero una persona che non spende tanto e non sono uno spendaccione poi magari se un giorno vinco la lotteria e mi arrivano 10 milioni di euro potremmo riconsiderare questa domanda e probabilmente risponderò in maniera diversa se uno spendaccione sì sono uno spendaccione spendo in tutto quello che mi capita però per adesso non mi considero uno spendaccione poi terza domanda il terzo esercizio ci chiede di completare un racconto e il racconto deve iniziare così avevo appena pagato la quarantottesima e ultima rata della mia nuova auto eppure provavo un sentimento di tristezza anziché di gioia avevo sì una macchina mia ma quel prestito mi aveva creato tanti problemi continuate voi la narrazione ok prima di continuare la narrazione capiamo un attimo di cosa dobbiamo parlare dunque questa persona qua ha finalmente estinto il prestito che cosa significa estinguere il prestito estinguere è proprio huan van la estinguere il prestito huan van la tai kwan quindi facciamo un po di conti il narratore ha dovuto estinguere un prestito in 48 rate 48 rate significa 48 mesi e quanti sono 48 mesi 48 mesi sono 4 anni ecco perché dice che la sua macchina non è proprio nuova perché ha già 4 anni quindi lui in 4 anni si è comprato finalmente la macchina nuova ha estinto il prestito finalmente ha un'auto che è tutta sua ok perché ha finalmente estinto il mutuo il problema qual è è che questo mutuo ha pesato sulle sue spalle per ben 4 anni voi immaginatevi per 4 anni vivere ogni giorno con il peso di dover pagare la rata per la macchina insomma non è una bella cosa specialmente se voglio dire questa macchina è molto costosa e magari il tuo stipendio non ti permette una vita particolarmente agiata quindi la storia che vogliamo immaginarci è quella di una persona che 4 anni fa aveva acceso il mutuo perché poteva permetterselo perché magari aveva uno stipendio più alto e poi in questi 4 anni invece ha cominciato a guadagnare sempre meno e quindi a vivere con il peso del mutuo quindi questa è più o meno la storia che vogliamo raccontare va bene come la raccontiamo la raccontiamo così prima di tutto l'abbassamento del mio stipendio mi aveva costretto a pagare ben quattro rate della macchina con i soldi che avevamo messo da parte io e mia moglie per gli studi universitari di nostro figlio questo è già un torto per cui non riuscirò mai a scusarmi abbastanza con mio figlio e poi con la recente crisi economica siamo stati anche costretti a vendere il nostro fantastico pianoforte a coda che avevamo ricevuto in eredità da un vecchio zio di mia moglie col risultato che ora mia moglie suona soltanto il piano elettrico e anch'io avevo dovuto rinunciare alla mia fantastica chitarra ma nonostante i problemi di carattere economico fossero quelli più visibili non sono stati gli unici infatti per questi quattro anni non abbiamo fatto altro che litigare litigare e litigare con mia moglie per questa maledetta macchina per cui il giorno del pagamento dell'ultima rata tornando a casa dalla banca pensavo ne è valsa davvero la pena ok finiamo qua fermiamoci qui per adesso poi magari possiamo continuarlo però per non sforare con le parole ci fermiamo qua ok adesso facciamo la parte di ascolto nella quale viene intervistato l'autore del testo dottor new lo scrittore stefano benni quindi ci ascolterete un'intervista all'autore del testo stefano benni che abbiamo già incontrato nell'unità 7 come ve lo immaginate ecco una serie di aggettivi che potreste usare per descrivere lo scrittore sceglietene tre o quattro e confrontatevi con i compagni abbiamo in totale dieci aggettivi leggiamoli un attimo perché forse c'è qualche parola che non conosciamo ok abbiamo simpatico beh simpatico facilissima è vero è proprio tau ren shi quando poi abbiamo gentile vabbè gentile anche qua nulla di particolarmente difficile ok zian li ma poi abbiamo presuntuoso ok presuntuoso una persona che pensa di essere una persona di un certo valore in realtà non lo è quindi presuntuoso è proprio zi gao zi ta brillante che qui in questo senso non è propriamente zan land ma è più qualcosa che si avvicina a gao mind ok quindi questo è brillante poi abbiamo arrogante arrogante non è nient'altro che un sinonimo di presuntuoso che però qui possiamo tradurre come zia o auto ok una persona arrogante una persona presuntuosa che pensa di essere chissà chi impegnato impegnato non è difficile vero mangluda una persona molto impegnata una persona che ha tanto da fare oppure significa anche un'altra cosa se si pensa a uno scrittore impegnato significa una persona o uno scrittore che si preoccupa di problemi relativi alla società questo è uno scrittore impegnato quindi in questo caso impegnato sta per socialmente impegnato poi intelligente anche qua nulla di difficile vero song minda poi abbiamo spiritoso spiritoso è qualcosa che ci fa ridere quindi modesto noioso me is ok quindi questi sono gli aggettivi che possiamo usare per descrivere Stefano Benni secondo me prima di ascoltare il brano è il caso anche di leggere le affermazioni fra cui potremmo scegliere quelle corrette abbiamo quattro domande a risposta multipla ciascuna delle quali ci presenta tre opzioni quindi Stefano Benni ha scritto 19 libri più di 19 libri meno di 19 libri Stefano Benni è tra gli autori italiani più amati all'estero ha scritto libri in altre lingue oppure è uno scrittore molto tradotto quindi qua dobbiamo fare attenzione perché sicuramente parlerà anche dei lettori fuori dall'italia ok i lettori di Stefano Benni fuori dall'italia dobbiamo capire se queste persone leggono Stefano Benni tradotto in altre lingue oppure leggono dei libri che lui stesso ha scritto in altre lingue poi vedremo poi nei suoi ultimi libri Benni sembra più altruista quindi qua sappiamo che altruista è una persona che è un li ta ju yi jia oppure semplicemente li ta jia oppure ancora shi zi vei jian da questo è altruista ottimista qui nulla da dire è vero le guan ju yi jia sembra più pessimista che è il contrario ok bei guan ju yi jia poi quattro secondo Stefano Benni scrivere libri a significa andare contro la cultura dominante quindi è un'attività possiamo dire bien yu and fei julio d oppure è un gesto alternativo ai modelli dominanti quindi da una parte abbiamo una cultura dominante julio d e dall'altra parte abbiamo un'alternativa a questo modello perché alla fine scrivere libri non è una cosa che possono fare tutti perlomeno scrivere bei libri non è una cosa che possono fare tutti poi c è un semplice esercizio letterario cioè non ha nulla di profondo basta che qualcuno si metta al tavolo oppure si metta davanti al computer e inizia a scrivere semplicemente come una specie di esercizio ok un tipo di possiamo dire li en si qualcosa che si fa così per abitudine senza particolare interesse né senza un particolare scopo adesso possiamo già rispondere al primo esercizio cioè senza ascoltare l'intervista a Stefano Benni come ce lo immaginiamo dunque io che non ho mai ascoltato delle interviste né l'ho mai visto in prima persona soltanto ho letto i suoi libri me lo immagino simpatico me lo immagino anche brillante e me lo immagino molto modesto anche diciamo che non riesco a immaginarmi che una persona presuntuosa possa scrivere così bene ecco quindi per questo non ho citato gli aggettivi presuntuoso né tanto meno arrogante ok adesso siamo pronti a ascoltare il brano e a rispondere all'esercizio successivo il brano è ovviamente la traccia 9 del secondo cd vai ok questa era un'intervista un po' particolare anche perché l'intervistatore parla un sacco e l'intervistato cioè lo scrittore Stefano Benni parla relativamente poco è vero abbiamo sentito poco la sua voce è un po' tanto quella dell'intervistatore comunque questo non ci interessa perché comunque Benni con poche parole ha spiegato in maniera molto chiara quello in cui lui crede ok quindi rispondiamo a queste domande dunque la prima domanda è Stefano Benni ha scritto quanti libri ha scritto? ha scritto ovviamente più di 19 libri e perché sono più di 19 libri? perché il presentatore al momento di presentare Stefano Benni e il suo nuovo libro dice che lui ha guardato il risvolto della copertina del libro e ha visto che a parte quest'ultimo libro pubblicato ci sono altri 19 titoli di altri 19 libri quindi è per questo che sappiamo che Benni ne ha scritti più di 19 la seconda domanda è Stefano Benni che cosa? ovviamente è uno scrittore molto tradotto perché ha detto che uno degli scrittori più tradotti all'estero e poi perché non è la risposta A perché non ha detto che è fra quelli più amati all'estero no è fra quelli più amati nel nostro paese cioè in Italia questo ovviamente esclude la risposta A e ovviamente esclude anche la risposta B perché lui non ha scritto libri in altre lingue ma soltanto in italiano la terza domanda invece è nei suoi ultimi libri Benni sembra più pessimista e perché sembra più pessimista perché l'intervistatore prima di porgergli la prima domanda presenta i suoi ultimi due lavori che sono Saltatempo e Achille Pieveloce e dice di aver trovato una specie di visione desolata quindi questa desolazione è ovviamente un altro modo per dire pessimismo quindi Benni negli ultimi libri sembra più pessimista la quarta domanda invece è secondo Stefano Benni scrivere libri che cos'è? è un gesto alternativo ai modelli dominanti dice lui non vuole andare contro la cultura dominante perché andare contro qualcosa è sempre facile come vi ho già detto nella scorsa lezione è vero distruggere qualcosa è sempre facile il problema sta nel ricostruire e quindi lui ricostruisce qualcosa in maniera alternativa ai modelli dominanti che quali sono? l'avidità economica che vede e questa televisione spazzatura che ormai è dappertutto quindi lui scrive libri come alternativa a questo e secondo me la frase più bella di tutta l'intervista è la frase con la quale Benni esordisce che è la seguente io gioco nella squadra dei libri che secondo me è bellissima davvero quindi andiamo avanti siamo nell'ultimo esercizio esercizio 3 qual è il significato delle seguenti frasi tratte dal brano ascoltato il giornalista dice cosa devo dire di Stefano Benni perché non lo conosce bene oppure perché tutti lo conoscono ovviamente perché lo conoscono tutti quindi cosa devo dire cosa devo aggiungere per presentare in una maniera Stefano Benni dato che basta dire il suo nome che tutti già sanno chi è capiscono di chi si sta parlando quindi lo conoscono tutti poi 2 un personaggio di Benni dice ma la parola speranza non mi sento più di pronunciarla perché A speranza è qualcosa in cui non crede più oppure B speranza è una parola che non usa più nessuno anche qui è la risposta A perché la parola speranza non mi sento di pronunciarla significa che non credo che ci sia speranza quindi speranza è qualcosa in cui questo personaggio non crede più e anche questo è un tratto di quella visione desolata e pessimista che sembra essere molto evidente nelle ultime opere di Benni va bene siamo arrivati alla fine ci rimangono le riflessioni linguistiche quindi queste ve le leggo in maniera veloce e poi vi lascio andare dottore è chi ha una laurea anche se per etimologia scientifica colui che insegna derivato dal latino doctor dal verbo docere insegnare si può essere dottori in lettere in legge in economia e commercio eccetera e anche in medicina il dottore in medicina è da secoli chiamato semplicemente dottore mentre il termine professionale è medico quindi non tutti i dottori si occupano di salute questo cosa significa significa che quando sentite una persona che dice mi sento male devo andare dal dottore questa persona sta commettendo un errore perché ci dovrebbe dire mi sento male devo andare dal medico perché dottore è chiunque sia in possesso di una laurea però adesso è diventata pratica comune usare il termine dottore per indicare esclusivamente o quasi esclusivamente il dottore in medicina cioè il medico però a noi serve sapere che chiunque è in possesso di una laurea di qualsiasi tipo sia essa triennale oppure magistrale è già da considerarsi dottore indipendentemente dalla materia studiata benissimo adesso abbiamo finito questa unità e abbiamo anche finito la prima parte di questo corso io come sempre vi do appuntamento alla prossima lezione lezione nella quale entriamo ufficialmente nella seconda parte del corso e vi auguro buono studio e buon lavoro ciao e buon lavoro e buon lavoro e buon lavoro e buon lavoro e buon lavoro